Un saluto a tutto il gruppo, oggi qua di fianco a me siede Inga che è una dei teacher della nostra university, ok parliamo già inglese perché siamo a livelli alti, avremo diversi teacher in questa university, ci sarò io, ci sarà la Inga, ci sarà la Iana, ci sono i dottori del policlinico, ci sono gli studenti che sono qua che ci stanno ascoltando. E ci sono tutte le domande a cui rispondere che ci fate ogni giorno, ok abbiamo provato a tirare giù degli argomenti queste settimane però ci siamo resi conto che alla fine molte cose noi le diamo per scontato, come dicevo prima stavamo facendo streaming da un'altra parte, ci siamo accordi dopo un po' e dicevo prima che molte cose che a noi non ci vengono in mente, poi ce le fate ogni giorno queste domande e ci siamo resi conto che se noi rispondiamo in maniera pubblica facendo lo streaming possiamo dare risposta a tutti quanti in un unico momento cioè chiunque sta nel gruppo magari c'ha quella stessa domanda o non ci aveva pensato con questi video con queste giornate educative che poi si riducono a una due ore al giorno riusciamo a rispondere. Oggi per esempio mi chiedevano delucidazioni sulla ricostruttiva dell'osso che delle volte ho fatto già dei video dove parlo per esempio di otto impianti dentali, di quattro impianti dentali, di sei impianti dentali, video dove parlo della parte protesica che si monta sopra. Una cosa che delle volte è poco chiara è capire perché non si possono mettere per esempio tanti impianti dentali. Gli impianti dentali si mette là dove c'è osso, se l'osso non c'è l'alternativa è ricostruire l'osso e poi mettere l'impianto. Ma se l'osso non ha senso ricostruirlo perché l'impianto poi sarebbe in una posizione non utile allora quello è uno di quei casi in cui bisogna scendere al numero di impianti dentali più basso. Oppure un altro motivo per cui si mettono meno impianti è perché l'osso non solo non c'è, non si può ricostruire, ma ci passano anche vicino strutture nervose come per esempio la mandibola. E allora nelle zone posteriori non possiamo mettere gli impianti dentali. Buon corso dottor Palazzo. Il gatto te lo volevo dire, se devi andare lì c'è un esame, sta andando a dare un esame. Esame di? Diritto Penale Militare. Voi non lo sapete, ma lei è laureata e sta facendo il master adesso. No, non lo avrei detto. Ma come sei? È laureata, non lo dice mai. Non lo dice al mercato. Domani se ci sono i pomodori a me. Ciao, buon agenziale. Vieni qua. Allora, che da solo vi viene l'ansia a stare da solo in moto. Allora, se volete venite anche qua di fianco, così apro a monitor qua delle cose. Metto a monitor delle cose, chi le vuole le può guardare su quel monitor, se no le apro qua direttamente su questo. Tanto voi da qui non solo vedete noi, ma potete anche vedere il monitor che sto condividendo. Allora, ci sono dei casi, per esempio, come questi, All-on-4, in cui vengono messi pochi impianti dentali su un paziente, per esempio quattro, sui quali poi vengono montati tutti quanti i denti. Ok, la tecnica cosiddetta All-on-4. Questi sono dei casi in cui il paziente ha perso tutti i denti, ma ha perso anche tutto l'osso. Allora che si fa? Si mettono gli impianti dentali, come vedete qua a monitor, due nella parte anteriore, due nella parte posteriore inclinata, e dietro non si possono mettere impianti dentali non per motivi economici, ma perché l'osso è troppo riassorbito e va vicino al nervo. Vi faccio vedere ora, per esempio, una foto di mandibola atrofica, mandibola atrofica. Andiamo a immagini, ne apriamo una di fotografia, eccola qua. Per esempio, questa è, vabbè, abbiamo un caso, questo limite. Vedete qua a monitor che c'è una radiografia dove questa parte bianca è la parte di mandibola rimasta sotto. Qua in mezzo ci passa il nervo, qua pure questa ombra scura è il nervo, e noi non possiamo mettere impianti dentali in queste zone, qua, perché andremo sennò a tranciare il nervo. In questi casi abbiamo la possibilità di fare degli interventi che ci permettono di fare impianti dentali in quelle zone. Se c'è il nervo, uno cosa potrebbe pensare? Sposto il nervo. Ok, posso spostare il nervo. Se questa è la mandibola, ci passa il nervo in mezzo, faccio una finestrella qua di fianco, vedo dove è il nervo, lo tiro e inserisco qua l'impianto. Si può spostare? Sì, questa è la trasposizione del nervo. Si può spostare? Quella è una tecnica. Sì, il problema è che rimani poi paralizzato. Alla fine, quindi fai la trasposizione, però rimane sempre una parestesia di questa zona. Significa che bevi e ti cola, perché è un nervo sensitivo. È un nervo, non è motorio che serve per muovere, è proprio sensibile. Baci una persona e non lo senti. Oppure c'è un ferro caldo che metti qua e non te ne accorgi. Ok, sono tanti poi i problemi che può dare. Certo, sorridi e almeno non hai questo tipo di problema, insomma, che è il motorio che sorridi così e qua rimane paralizzato. L'altro modo è una tecnica che si chiama invece, non è la trasposizione del nervo, mettere l'impianto di fianco al nervo. Ok, per esempio, io vi faccio un disegno sulla lavagna, così ve lo spiego sulla lavagna in maniera chiara. Si chiama il bypass del nervo. Ok, io ho la mandibola, per esempio, una mandibola di questo tipo, qua è atrofizzata, e qui ci passa il nervo. Io posso a questo punto tagliare questo pezzettino qua di osso, così che il nervo mi ha fatto lo scherzo. Ha fatto lo scherzo, Inga, mi ha dato i pennarelli indelebili. Allora, vediamo se ce n'è uno non indelebile. Whiteboard, ok, questa è per la whiteboard. Ok, vediamo se con la mia teglia in cala via. E se ne viene inizia. E se ne viene inizia un mare. E vado a mettere l'impianto, il bypass, lo bypasso. Lo metto così, l'impianto. Ok? Metto, uso un impianto sottile, come vedi riesco a... Il problema è che l'asse di inserzione è troppo inclinato. Magari rispetto a un asse che se avessi messo l'impianto qua, ok, avrebbe avuto quest'asse. Questa è un'altra tecnica che esiste, ma non sempre si può fare, perché poi mi ritrovo un impianto dentale che è troppo sottile, inutile per andare a montare, oltretutto me lo ritrovo disassato parecchio. Mi viene poi negli anni un riassorbimento dell'osso in questa zona. Ok? Questa è un'altra tecnica che è stata proposta tanto tempo fa. E questa è la mandibola, ok, atrofizzata. Allora, io posso a questo punto, se qua c'è il nervo, a un certo punto qui esce il nervo. Stessa cosa da questo lato, qui esce il nervo, posso usare questa zona qua per mettere impianti. E quindi vado a mettere in questa zona anteriore, con la tecnica per esempio di all-on-four, uno, due impianti nella parte anteriore e due nella parte posteriore. Se ne riesco a mettere quattro è meglio, perché? Perché quattro è meglio di due. Perché se uno di questi fallisce, la distanza inizia a essere un po' troppa, flette, sotto i carichi e si rompono i denti. Quindi è sempre meglio andare a rompere con più impianti, cioè a supportare con più impianti la protesi sotto. L'altra alternativa, che è quella del professor Conte, che è stato qua la settimana scorsa, è andarci a poggiare qua dietro con delle placche. Proprio delle placche, che hanno poi dei perneti che fuoriescono e quali io posso avvitare la protesi. Ed è quello che io sto andando a fare con l'equipe internazionale, andare a riprodurre queste placche con il digitale. E sono quelli che si chiamano gli impianti subperistei. Ancora, questi impianti subperistei hanno dei problemi che sono intanto il fatto che devono essere progettati su un'attacca 3D, fatta l'impronta durante la chirurgia sull'osso. Bisogna poi andare a fabbricare i pezzi e l'unica fabbrica di questi impianti che c'è sta in Belgio. Ogni singolo impianto costa 9.000 euro. Mi sono già fatti fare due placche e sarebbero 18.000 euro. Stiamo parlando di placche personalizzate. Stiamo parlando di chirurgia che è molto sofisticata perché necessita... Sono impianti che vengono fatti a mano, uno ad uno, mentre gli altri vengono fatti dai torni. Quelli sono impianti fatti in serie a migliaia. Questi invece vengono fatti personalizzati per ogni singolo... E' sempre titanio. Sempre titanio. Poi l'altro problema è che sono delle placche, come tutti gli impianti che mettiamo in bocca, che necessitano di certificazioni. Non posso stampare una cosa in titanio e metterla nel corpo così. Deve avere certi requisiti, la fabbrica, il processo di fabbricazione, devono essere rispettati i requisiti nazionali, dove le impianti... E' un po' più lunga di quel che sembra la cosa. Però alla fine se le fanno da qualche parte, prendiamo già chi ha risolto tutto e glielo facciamo fare a loro. L'obiettivo è farle anche qua in Moldavia. Abbiamo tantissimi pazienti con l'atrofia della mandibola in questa zona posteriore, che può essere predisposto già un piatto di questo tipo in titanio, che nel caso dovessero fallire gli impianti anteriori, dà una seconda possibilità per essere rioperati e poter masticare, insomma. Poi... Ma quest'altro qui ha il complesso di poter andare con il tempo? Col tempo, col tempo. Paziente, per esempio, che è portatore della dentiera mobile per tanti anni. In moglie c'è qualcosa di maligno. Dentiera mobile c'è, vedi? Sì. Sopra ci sono solo quei impianti qua, qua sono liberi. Quattro dintini, quattro dintini, quattro dintini, quattro dintini si attaccava con i gancetti. Qua? Sì, sì, sì. Vedete il stacco? Alla fine, clac. Quella pigia, pigia, pigia e a furia di pigiare, di sbattere, tu ribasi ogni due anni la protesi, ma quello che aggiungi sulla protesi l'hai perso di osso. E sopra non lo so? Normalmente è il caso della dentiera mobile. Poi ci sono altri casi, anche in cui si perde tanto osso, e sono per esempio quando noi facciamo i cosiddetti espianti degli impianti, quando togliamo gli impianti andati male, allora dobbiamo carottare via l'impianto e non rimane più nulla. Oppure paziente che ha avuto cisti, cisti che si sono ingrandite parecchio e quelle si mangiano l'osso. Oppure possono essere pazienti che hanno avuto dei granulomi, denti con infezioni, con pus, allora il pus si va a liquifare tutto l'osso. Dipende, ci sono diversi casi che possono portare, però in genere quello che non si riassorbe quasi mai, questo è un caso per esempio di un paziente, questo ci avrà una certa età, che ha portato almeno vent'anni la dentiera mobile, questo che vedete a monitor, e allora anche davanti ci siamo bloccati, giocati la possibilità di fare impianti classici, standard. L'unica cosa che si può fare su questo paziente sono quegli impianti subperistee. subperistee che ho delle immagini, allora devo andare sul gruppo dottori, dottori, dottorasi, ecco qua noi abbiamo i nostri gruppi facebook dove ci condividiamo un sacco di cose e mi vado a cercare, anzi già ve l'ho fatto vedere a qualcuno, qua, della CADSKILLS, 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 vedo tutto piccolo, eccolo qua, questa qui è la fabbrica per esempio che ora sta andando a incontrare la settimana prossima che loro fanno queste placche in titanio che vengono fatte in maniera, eccoli qua, gli impianti subperistee, sono delle placche che si avvitano sull'osso rimasto, quindi non si inserisce nulla dentro l'osso ma viene inserito fuori dall'osso. Quindi rimangono esterni, sotto la gengiva, sotto la gengiva, ma c'è l'impiego di quelle persone che vedete qui dietro che sono designer, quelli sono designer che lavorano per esempio uno o due giorni solo su quella placca e vanno a ricostruire col 3D l'impianto dentale personalizzato che viene poi avvitato sopra, o che sia mascella superiore o mandibola, vengono avvitate. Poi abbiamo modificato la tecnica perché loro sono un'azienda comunque di design grafico che devono essere guidati dal chirurgo, noi conosciamo quali sono i problemi di questi impianti subperistee, perché il mio professor Conte, lui li ha fatti già da 28 anni questi impianti, prima li faceva in una nazione un po' più libera, aveva un fratello che produce impianti dentali e quindi poteva certificare e tutto quanto, però ha visto quelli che erano i limiti, ovvero il fatto che quando tu metti ste placche la gengiva poi si può riassorbire e se si scopre poi lì c'è il rischio di vai per le implantite, quindi ti si infetta lì e tutto veniva perché la connessione dell'impianto era una connessione che quando lui la faceva usciva dall'osso, vediamo allora, paziente, chirurgo, vediamo se troviamo un'immagine qua, chirurgo, impianti, eccoli qui, eccolo qua, lascio vedere, zoomato, ecco qua come si presenta una placca subperestia che è questa rosa, c'è una porzione che esce fuori, che è questa dove si abita poi la barra sul quale vengono fatti i denti, che potrebbe in teoria non fatta uscire dalla gengiva ma essere incassata dentro l'osso per un pezzo e quindi se noi andiamo a incassare dentro l'osso non solo la connessione ma anche il disegno della placca, io ho un impianto che non è a rilievo ma è a livello con l'osso e questo ci permette di avere meno recessione ossea. Per fare questo ci serve prima fare un attacca del paziente, stampiamo il modellino, vediamo in trasparenza perché sono modellini trasparenti, forse li avete visti giù in clinica, andiamo a disegnare col pennarello proprio quello che è il disegno di dove dovranno essere gli ancoracci, andiamo poi con una fresa a limare, a fare questo disegno, lo scolpiamo e lo scannerizziamo. Sul computer abbiamo il 3D della forma della placca, a quel punto col computer creo una guida che ha la forma della placca, apro il paziente, metto la guida e vado a limare, fresare l'osso con una fresa calibrata esattamente di un millimetro, faccio tutta la sagoma, poi prendo un'impronta sull'osso e con l'impronta la scannerizzo e creo la placca virtuale che viene poi stampata dal titanio e questo ci permette anche di fare, di incassare poi il sistema di avvitamento. Queste sono 28 anni di esperienza di una persona che sta in Italia, che le ha fatte in maniera artigianale, di digitale non sa nulla, però noi col digitale ne sappiamo fare queste cose, quindi quando il vecchio incontra il giovane io prendo sempre l'esperienza che lui ha fatto, ne faccio tesoro, vado da loro che invece le fanno in digitale e facciamo questo nuovo tipo di protocollo e salta fuori una soluzione che permette a tantissime persone nel mondo, non parliamo solo in Italia, che hanno questo problema, di comunque avere i denti fissi, con il rischio quasi nullo di avere poi queste dei scelze, questa è la gengiva che si apre. Questo è il futuro, stiamo parlando del futuro perché è giusto, quando si fa parla di atrofia e di perdita di osso, vedere anche quelle che sono le opzioni di quello che si può fare. Bisogna spingersi un po' oltre sempre, ogni tanto andare a vedere... A quanto? Ora sto andando, settimana prossima, domani sto partendo, devo andare a Yashi, poi da Yashi prendo l'aereo e arrivo in Germania e lì c'è il loro proprietario con l'equip e ci dobbiamo incontrare lì, poi a maggio invece sto andando in India con l'altra persona come professor Conte che ne ha fatti tanti. Creiamo un'equip internazionale con cui qua iniziamo a fare la produzione ma non 9.000 euro ad arcata, ad arcata a placca. Tieni conto che queste placche sono non solo per i denti, ma anche per ricostruzione facciale o ricostruzione cranica, sono tante le applicazioni che si possono fare, il principio è lo stesso. Sono impianti, sono di due tipi, o convenzionali, fatti a tornio, ma si mettono in condizioni ideali quando c'è osso. Ci sono poi delle condizioni che non a caso si chiamano riabilitazioni estreme, in cui casi estremi, estremi rimedi. Con il convenzionale non risolvi, con la soluzione convenzionale, perché non puoi metterla o non c'è osso, oppure alcuni casi possono essere risolti con i 6 o 4 impianti, ma oltre quello esistono gli impianti zigomatici e le placche superiste ed anche gli impianti pterigoidei, di cui anche il professor Conte è uno dei luminari. Se noi andiamo per esempio qua, allora Conte, andiamo qua, avete visto che stava qua la settimana scorsa, un baffetto, qualcuno di voi l'avrà visto su... Siamo incontrati qua noi a New York, proprio è nata un'intesa incredibile perché parliamo delle stesse cose quando parliamo. Sembra di vedere me fra 34 anni. Ecco qua. Questi sono gli impianti, aspetta faccio vedere giusto i pterigoidei, che sono... Allora, facciamo così, scarichiamo l'immagine, salvo. Sono molto troppo. Questo è quello della ruota di scorta cementata. Sì, sì, quello che diceva si può... Allora, vediamo se me lo apre. Ormai mi sono fatto un'istruzione io. Io non perdo, alla mattina delle nove sono già lì che guardo. Se poi c'è una cosa, sono là, arrivo con la mountain bike, mi metto lì, guardo subito, e mia moglie dice, ma cosa fai? Allora mi ha detto, adesso quando andiamo là tu operi, perché ormai sai tutto. Eccoli qua. E dopo spieghi agli altri, no? No, guarda che là fanno così. Palmas ha detto che è venuto giù quello di Parigi, quella orla, poi quello là che è andato in America a spiegare. Non me lo zooma. Non me lo zooma perché ho fatto troppo zoom. Andiamo indietro con lo zoom e faccio lo zoom. Ecco qua, risolto. Questo inclinato che vedete dietro? Eh, l'ho visto. Questo è stato un impianto perigoideo molto discusso, molto discusso perché è una zona, quella anatomica, dove gli impianti vanno messi in una certa maniera, altrimenti c'è il rischio di avere edema, eccetera. Sta praticamente alla fine dell'argata. Questo tipo di impianto, per essere posizionato c'è bisogno di vedere bene l'anatomia. Ok? Bisogna aprire, vedere quello dove si sta mettendo, non si fa per esempio con la chirurgia guidata. Bisogna aprire, il paziente più delle volte qua ha fatto anche un'attacca 3D, ha fatto esattamente la ricostruttiva prima sul computer di tutte le fette dell'attacca e vediamo esattamente dove decorrono le strutture anatomiche, quelle delicate e quelle che a noi interessano per mettere l'impianto. Quando prima non c'era l'attacca 3D, quindi all'epoca di Conte, pochi si avventuravano a fare questo impianto, invece oggi con il computer è possibile anche farci delle guide per poterlo inserire, è abbastanza semplice, più lui ha ideato tutto un sistema perché non c'aveva l'attacca come noi, che invece che inserire l'impianto con la vite è un punteruolo, tuc 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 tuc, fai tutti i forellini tutti un po' più larghi e eviti di andarti a chiappare che ne sono strutture, quando vai con la fresa, vengono inseriti in maniera diversa, quindi anche il kit di inserimento di questi impianti è diverso e lui ha ideato questo, l'impianto ptericoideo, poi è stato copiato, replicato da tante altre case di impianti dentali. Questa è un'altra opzione a quando abbiamo il seno macellare che non si può ricostruire. Domanda, quel tipo di impianto che si chiama? Ptericoideo. E' quello vicino ai dischi mandibolari? Disco mandibolare qua, l'impianto viene messo qua, è vicino all'orecchio, vero? Ma va più indietro, parliamo di 5 centimetri di sempre. Quelle placche di cui si parlava prima potrebbero anche essere utilizzate a risolvere la risoluzione di quegli dischi che sono consumati, quindi quando due mandibole senti proprio... No, tu dici clic clic clic, no, quello non lo so, quello vedi è uno dei problemi, non è fatto. Si chiamano dalla clinica. Si. Allora, vai. Paola, vuole parlare con te? Si, vieni Paola. Ah, si, si, sono qua con Paola, sono qua che ascolto le lezioni di Paola, che prima... Va bene, andiamo giù. Lo stanno chiamando. Va bene, ciao, ciao. Il miglio verde, ti aspetta. Comunque, i dischi articolari, faremo una lezione proprio su quella, quando verrà il mio collega dalla Sardegna che lui si occupa solo di patologia dell'articolazione. Bene, quello che si può fare ad oggi è solo un pagliativo, per chi ha problemi articolari a oggi non c'è una soluzione, se non il bite, mettere il paradentino in notturno e risolvere la patologia, la sintomatologia, ma non la patologia, perché è una patologia degenerativa che avanza, ma non può andare indietro. Cioè, tutto quello che tu perdi a livello di articolazioni, non avrai mai le articolazioni giovani, tutti gli interventi che vengono fatti alla fine sono demolitivi, non sono interventi, tu prova a farti operare di ginocchio, non torni in normale. Ah no, sicuramente. Remi, rimani comunque un paziente, è leso. Stessa cosa per l'articolazione della mandibola, l'unico è usare dei bite che mettono l'articolazione, sono dei morsi che uno mette e rialza l'occlusione, e mette l'articolazione a riposo e passa al dolore. Però scroci, rumori, trick trick trick, quelli sono segno di deterioramento della superficie, che da liscia, bella unta e bella che scivola, iniziano ad esserci dei precipitati che intaccano la superficie, inizia a diventare rugosa e fa crack crack crack. Come le cartilagini che si usurano. Brava, che si usurano. Poi, più si usura la cartilagine, si può anche perforare e iniziano ad aggrattare le basi osse, che poi non sono osse, ma hanno anche un rivestimento di cartilagine, poi, stadio più avanzato, si consuma la cartilagine, osso contro osso e rimani bloccato. Ah, ho chiuso. Cosa non devi usare? Ciuingame, vietato. Non devi ricostruire i denti bassi, li devi costruire più lunghi. In più, se puoi mettere un bite notturno, fai ruotare ancora di più l'articolazione. Quando l'articolazione è rotta, hai l'effetto che il disco articolare va in posizione di riposo. Quando va in posizione di riposo non tira i fasci fibrosi che si attaccano poi al cranio. Dentro a questi fasci elastici ci sono dei fasci nervosi, anche posteriore, che sono quelli che scatenano il dolore. Se io metto il disco a riposo non vanno a pigiare su questi fasci e passa il dolore. Quella è la terapia, ma è risolutiva? No, è un cerote, è un palliativo. Però dottore, il riposo qual è? Il riposo è la bocca leggermente aperta, anche mezzo centimetro, così. La bocca fa due movimenti, prima ruota e poi trasla in avanti. Noi andiamo a ruotare, non andiamo mai in traslazione. Facciamo ruotare. C'è una prima, vediamo se lo trovo, asse cerniera della bocca. Hai presente i serpenti? I serpenti aprono ma poi la bocca si deforma. Così è la nostra macella. È una macella che fa due tipi di movimenti. Asse cerniera. Eccola qua. Prima la mandibola rotta ed è questo il movimento che fa, rotatorio. Dopodiché aumenta, come vedi, il raggio perché va in traslazione la mandibola. Vediamo se c'è un'altra foto che te lo fa vedere. Non fa un movimento ideale come questo azzurro, ma in realtà è composto di due movimenti. Il primo al rotatorio e il secondo al traslatorio. Quello corretto sarebbe l'azzurro. No, da uno al punto due. Lì il bite deve lavorare entro questa prima rotazione. Quando poi il bite lavora sulla seconda, lì non crea un problema. Stai perdendo il disco. Nella fase di rotazione non c'è ancora stiramento dei tessuti. Quando invece fai nella seconda fase di rotazione i tessuti iniziano ad essere stirati. Poi dopo una notte che stai con un bite così ti svegli che sei tutto a dolore. Comunque, questo per dirvi, i problemi articolari ce l'hanno un sacco di pazienti che curiamo. Tantissimi. Infatti noi andiamo sempre a fare dei denti che sono più alti, più lunghi. Perché quando uno perde i denti fa così. Quando tende a chiudere collassa il terzo inferiore della bocca e si sviluppa anche il problema articolare. Allora noi dobbiamo mettere non solo gli impianti ma ricostruire anche i denti più lunghi. Non possiamo fare i dentoni, dobbiamo ricostruire la gengiva. Simuliamo il tessuto perso. Se no dovremmo fare dei dentini piccolini. Così. Andiamo a vedere per esempio. Andiamo su pagina Facebook. Gruppo Aftercare. Proviamo qua su gruppo Aftercare. Apriamo la pagina di un dentista. Quando devo trovare esempi qua li trovo tutti. Andiamo a zoomiamo. Ci proviamo a aprire qualche caso fotografico che fa vedere per esempio come è stato risolto il caso. Questo no. Andiamo su foto. Che vedi qua per esempio questi denti sono troppo lunghi. In realtà la gengiva dovrebbe arrivare fino a qua. Manca la gengiva perché quello che è stato perso a livello osso l'hanno compensato con la ceramica. e l'hanno compensato. In realtà anche lì doveva essere simulata gengiva. Aspetta e provo a inquadrare più su così si vede anche sul gruppo. Quando ci chiedono per esempio voglio i denti senza gengiva dipende perché così rischi di avere l'inestetismo poi di avere i dentoni lunghi da balena. Poi che se c'è il labbro che copre non è un problema ma se uno c'è il sorriso gengivale è un problema poi dopo. Quando invece la bocca viene riabilitata senza rialzare l'occlusione. Quello che si ottiene è questo. Dei denti al contrario che invece di essere della dimensione corretta sono sottodimensionati. Questa è una sottigliezza che ti fa capire se uno è bravo a fare le riabilitazioni della bocca oppure no. Quando riabiliti la bocca non devi solo mettere dei denti ma li devi mettere in uno spazio che ti devi rideterminare. Se tu tieni e registri questa macchina cartocciata col telaio a cartocciata ha fatto un incidente e il telaio si è storto. La posizione magari della portiera è diversa perché il telaio l'ha tirata o che magari l'ha storta. Se io vado a rimettere la portiera nuova la posso mettere in un telaio che ho raddrizzato oppure lo tengo storto. Se io non raddrizzo il telaio quindi se non faccio il processo inverso la bocca collassa, anzi la bocca perde gengiva, i denti, osso e dimensione sia cartocciata. Se io metto i denti qua, i denti saranno lunghi o corti? Lunghi. No, corti. Non c'è spazio. Sì, giusto. Se invece io riapro la bocca, metto degli stop diet, ricostruisco l'osso intanto, tolgo tutti i denti, ricostruisco l'osso e metto impianti. Metto dei provvisori che tutti mi dicono, ah c'è i provvisori, c'è i dentoni. Sì, perché noi facciamo tutti i denti più grandi in fase provvisori, intanto perché così si rompono meno, ma poi perché vogliamo aprire la bocca. Poi dopo il paziente viene, in fase definitiva, lo dobbiamo deprogrammare, togliere i provvisori dalla bocca. Un giorno sta senza denti, ok, vedete tutti i pazienti che sono senza denti, perché? Perché si sta deprogrammando l'articolazione e la memoria dal cellulino. A un certo punto mettiamo un ferro di cavallo in bocca avvitato su 3-4 impianti, lo stava facendo prima per esempio il dottor Andrei, su un paziente. E iniziamo a vedere come queste due placche in resina si posizionano tra di loro. Poi mettiamo un po' di composito, di resina, che le va a distanziare, un pin che sta qua davanti, che è su un'arcata. Chiudi, tac. E vediamo come sta la posizione dell'articolazione. Rotta un po', sì, in una fase definitiva. Sì, sicuramente. Poi, quando noi andiamo a vedere qual è la posizione di riposo verticale, abbiamo allo stesso tempo anche la posizione anteriore e laterale della mandibola. Blocchiamo, mettiamo un silicone che blocca. Quella è la posizione dove ora dobbiamo mettere i denti. Gli impianti già sono stati messi nelle prime fasi, lì in questa fase ora dobbiamo mettere i denti. Quando non si fa correttamente questo, uno c'è il rischio che va a mettere a costruire i denti, come qua, in corti, in poco spazio, perché non ha deprogrammato la bocca. Quando il paziente chiude, i capi muscolari ravvicinati sviluppano più forza. Si creano spasmi muscolari, si può creare bruxismo o serramento notturno. I materiali flettono di più, hai scheggiature, dolori articolari, hai denti che vengono flessi continuamente, si crea o si stacca il cemento o si infiltra la saliva sotto, hai le corone che per esempio si staccano, è partita la capsula, tanti problemi. La bocca va prima aperta, il telaio va fatto nuovo prima. Per fare questo devi per un periodo deprogrammare, non deprogrammare, aprire la bocca, riaprirla, deprogrammarla al primo periodo durante i definitivi e poi si vanno a mettere dei denti. La bioma zecata? Non sempre. Delle volte non riesci neanche a prenderla perché il paziente ha degli spasmi muscolari, paziente spastico, paziente che ha avuto delle lesioni nervose, incidenti stradali e quindi non riesce a coordinare, è molto difficile delle volte prendere questa. Allora, in quel caso usiamo dei materiali che sono più morbidi, che permetteranno di avere gioco e nel tempo andiamo a vedere se ci sono rotture. Se non ci sono rotture, l'abbiamo a zecata, è quella. La verità è che l'articolazione ha molta tolleranza. Quello che noi facciamo qua, dopo un po' l'articolazione si abitua. Non me lo sono inventato, vado da chi fa solo questo e gli chiedo, dimmi la verità. E loro mi dicono questo, mi dicono la verità che noi stiamo andando al buio. Facciamo le cose e vediamo come reagisce. Poi ti comporti, se c'è una rottura cambi materiale, se non c'è rottura vai upgrade a una linea più rigida. Ma se io vado, è come guidare la macchina di notte, non sai dove saranno le buche. Cosa monti, sospensioni rigide o belle ammortizzate? Se vuoi evitare i problemi, ammortizzate. Se no, se sai già che è rettilineo, vai con le sospensioni rigide. Allora, materiali più rigidi. Ecco che è arrivata anche Iana. Vieni, siete qua di fianco, se no si vede sempre il mio viso. Volevo rubarvi un paziente. Ok, lo puoi rubare. Chi? Paziente. Alessandro, Falco. Io. Sei tu? Tu come me? Va bene, quindi io per oggi vi lascio che alle 6 o tra mezz'ora, riunione, che stiamo preparando la SOS. Università? No. U SOS? SOS. Ti stai interrogando? No. Dall'altro lato della strada. Più l'altro? Stiamo, no, stiamo organizzando dove fanno... No, c'è cazzo. Non diciamo niente, dove faremo almeno due feste a settimana a tutti i pazienti. E grigliamo.